Sui, prova con... Adesso sono oggi... Fai, fai, fai... Vedi, sei troppo diretto. Lui vedi cosa vuoi fare. Allora devi mostrare uno e fare l'altro. Fai, 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 fai... Fai, 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 fai... Bravo! Sotto ginocchio devi prendere. Sotto ginocchio... Sotto ginocchio sono la tua pronta... Eccolo! Tieni, tienilo, bravo! Tieni così, Samu, devi uscire. Controliare braccia non serve. Dai, dai, Samu... Stringi braccia, primo che devi fare. Gommiti dentro. Gommiti dentro. Non tieni avversario, non serve. Passa gambi, spingi ginocchio... Giù e passa. No! Vai passare david! Esci, esci, non stai la tralega. Atenzione, triangolo, Samu. Incrociato devi prendere gamme, vedi? Dall'altra parte non va da sinistra, cambio a destra. Deve essere molto più mobile. Non rimane sul posto di più di tre secondi. Lavora con i suoi... No, non, niente, devi. No, non, niente, devi. Quello che abbiamo imparato con te, Samu. Devi fissare i braccia, prendere la testa, mettere i bracci sinistri... Cosa hai fatto? Ehi, hai preso una tinnata. Ehi, hai preso... Z, hai preso una tinnata. Bravo! Minare! Ho paitzato sono.